Analisi, radiografie e controlli. Da lunedì i risultati degli esami si potranno ricevere anche per posta elettronica. Nell'Asla Toscana Sud-Est, infatti, dal 4 ottobre sarà attivo il servizio Referto et Mail, modalità che va ad arricchire il ventaglio di opzioni per il ritiro dei referti, che prevede anche l'invio per posta ordinaria, la pubblicazione sul fascicolo sanitario e la richiesta allo sportello al pubblico. Per l'attivazione, il cittadino dovrà recarsi allo sportello CUP dove gli sarà consegnata una password temporanea con cui accedere al portale dedicato per validare l'indirizzo email ed il numero di cellulare. Da quel momento in poi i referti saranno inviati per mail, due, una con il referto ed una con la password. Il sistema di autorizzazione con password e doppie mail è finalizzato a garantire la massima sicurezza e la totale riservatezza dei dati sensibili e personali del paziente nel rispetto della privacy. Entro fine ottobre saranno disponibili anche i referti di radiologia con un link per scaricare le immagini. Con il nuovo servizio, commenta Francesco Ghelardi, direttore amministrativo dell'Asla Toscana Sud-Est, andiamo sempre più incontro alle esigenze dei cittadini per semplificare, con tutti gli strumenti tecnologici a nostra disposizione, i percorsi di accesso alle prestazioni sanitarie. Chi ha meno familiarità con la tecnologia, conclude, può comunque continuare ad utilizzare le vie tradizionali che restano attive.